E qui si vede? E mo... Che cosa? Posso al campo numero 3. Un terza puntata. Comodoro armato. Comodoro esplosivo. Ci sta un petardo. Petardo? Eccolo il petardone. Siete il petardo? Oh, vieni a noi questa cosa, uè! Ma nonno, che si ci fa piglia fuoco a tutto quanto? Scusi, non faccio stare malato l'altro. No, appena si sta pagati già là. Ehi, è morto. Ci metto a me a te. E non vai, con un coppio di modello mio. Ma che cos'è l'anima, guarda. E parto. E vai. Adioca, aiuto. No. Metticelo in la macchina. E' sorda, e' sorda. In la macchina di Peppe Germano. E' sorda. Che l'ha provato. Ma su un paperede è sorda. Ehi! Alla macchina! Alla macchina! In la macchina, l'hai buttato? La coppa mangia! Ma scoppia! E' spenta, sei spenta con l'acqua. Ehi, chi lo ha vicino? Ehi, sei messo a scintilla. Stai ancora fumando, eh? Stai facendo ragù! Ma scoppia, ma scoppia! Ma quanto? Si sta cucendo la pommarola! Si sta cucendo la pommarola! Si sta cucendo la pommarola! E' rotta la latina! Tu vedi la pommarola cosa hanno fatto qua? Ma non c'è la pommarola! C'è la pommarola, o' si fanno questi scinti qua? Tutti stronzati si fanno qua! Non c'è la pommarola! E' rotta la pommarola! Immagini si sta cucendo la pommarola! La pommarola non se sta mangiando la pomma! E' rotta la spugnata il tronco! E' rotta la salicidica! Eh, a salicidico! E' rotta la salicidica! E' rotta la salicidica! Ma dove va? Non ci succede! L'usciuscia Fetecchia! Fetecchia! Fetecchia delle fetecchie! Che non siete altro Dì, questo è l'esercito italiano! Dì! Questo è l'esercito italiano! Dì! E' in mano a chi stanno? E' in fose 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 Invece volassi quattro sceme E' in fose Vai il posto al campo terza puntata Vai! Si mi chiambo a te Ma si mi chiambo a te Ma ti dà una parola Ah bucchiaccata Ma andoglio Oh, tenne pure la finestrina aperta Assorto Ma la finestrina aperta Cosa a me? Ma non so Ma non so Che lui fatemi E' in casa fare una chiacca No, un colpo su Giulini Ah, ci ha messo a te Ma non c'è l'autorità Ma non c'è l'autorità Ma non c'è l'autorità Ma non c'è l'uva Ma non c'è l'uva Nel'uva 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 Riusciranno i nostri prodi Ad accendere questa botticella riusciranno i nostri proti ad accendere la botticella, la pummarella è battuto? non ancora, buttate il povento! è stancata! aspetta, fammi dargli acqua! guarda che il povero uomo la bascia, guarda la solissa guarda un po' guarda, il povero uomo, laggiù solo lui! ma non era, è arrivato fino alla! è arrivato fino alla bascia! ma non è per intero, che lo stai spappolando? ancora? ero due all'uno! esagerato! un'arrenza! ce la fai buttata così? ero pochi spizzicati! ma non ne mettete in composito si filmate c'è bisogno ancora di mettere i tempi per fare! prendi! 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 che è stato? fai prima che si inforna! la caccarella! ma no! l'hai picciato! si è inforso! uoh che stai arrivando? vieni qua! non ci sta più! è scomparsa la pommarola! la pommarola è qua per ora! o gli occhi malamente! è scomparsa la pommarola! per ora ci tengo l'aereo! però non ce la faccio! ah! per ora ci tengo l'aereo! perchè ci tengo l'aereo qua? ora mi stiamo concimando! hai ragione! sta concimando l'erba perché ha bisogno dopo un po' di tempo! però la mia non ce la faccio veramente! e fai buono! fai buono! vieni qua! ah! ah! ma non ce la faccio mentire! ah! ma si fa acce! ma si fa acce! ma si fa acce! ma non ci puoi sparare! e quindi ci ha messo! a questo momento! Quando ci ha messo? ah! non ce l'hai accorto è giusto? eh, quasi è giusto è presto 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 è presto